Occorre far crescere nella coscienza di tutti il convincimento che ogni negatività può essere sconfitta. È però un convincimento che ha bisogno di nutrirsi di esperienze positive, di modelli concreti, di segni che il cambiamento è possibile. Anche questo è un compito proprio di quanti operano nel campo sociale e politico, un compito particolarmente urgente oggi. Sono queste le parole dell'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori nella sua omelia di venerdì 22 marzo, nella quinta settimana di quaresima, nella messa per i cattolici impegnati in ambito sociale, politico e nell'amministrazione pubblica. L'arcivescovo cita poi Papa Francesco che nell'omelia alla messa per l'inizio del ministero il 19 marzo ha invitato a vivere ogni potere come uno strumento di servizio. Un servizio che, sottolinea Betori, come dice il Papa, deve assumere la forma del custodire e quindi del prendersi cura. Ricordiamo le parole di Papa Francesco. Vorrei chiedere a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Siamo custodi della creazione, del disegno di Dio scritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Il Papa invita anche a non avere timore della bontà e della tenerezza. Betori lo cita a conclusione della sua omelia, riflettendo sul fatto che potrebbe apparire velleitario, utopico, che la vita sociale e politica possa essere luogo di tenerezza. Eppure, conclude Betori, è solo partendo da un orizzonte di bontà e di una bontà disponibile all'incontro e al prendersi cura che si può sperare una società diversa, in cui ci siano spazi di vita per tutti e si edifichino la giustizia e la pace.